Musica Siccome qui siamo in collina, no? E andandola così, e adesso ci sono le case, c'è su la collina dove va su, proprio la più alta, diciamo, del paese. E c'era dentro una pianta di grossa così, vecchia, che dopo, non so, forse vent'anni fa è morta, l'hanno sostituita con un'altra giovedì. E lì, come adesso, qui a Bulciago, dove andavano? Alla domenica, dove andavano? Che non avevano i soldi, andavano tutti a piantone, andavano su, pieno così, fino a mezzanotte, fino a mezzanotte. E ce n'erano di quelli che stavano su anche a dormire, quando faceva caldo. Ma l'estate era pieno, pieno, non si trovava il posto da sedersi. E io niente. È una tradizione. Era il punto più alto del paese. E c'era questa pianta che poi è morta e l'hanno ripiantata. Niente, era un simbolo del paese. Era il monumento del paese, era considerato. Andavano su il piantone, sì, dopo andavano al piantone anche a fare le merende e così, andavano su al piantone. Però il piantone era il piantone. Qua chi lo toccava... ... ... ...